Dov'è la più grande mostra di caminetti della Toscana? A Perignano, è facile, e a termo, una esposizione di 200 caminetti dai più economici a quelli firmati dai grandi specialisti del settore, fatti con i materiali più esclusivi. Guardate ad esempio questo marmo con fossili di 500 milioni di anni fa. Ma non basta, all'ea termo di Perignano c'è lui, il famoso sarto dei caminetti. Li crea su misura per le vostre case e le vostre ville. Caminetto vuol dire e a termo. E' facile, no? Pertanto vi aspetto anche domenica pomeriggio a Perignano.